Parliamo di Fast X. Io con la saga di Fast and Furious ho un rapporto un po' strano, perché ho recuperato intanto i film di recente, relativamente di recente, qualche mese fa, grazie a Universal, che più di un anno fa invece mi ha inviato questa collection con i 9 Blu-ray dei primi 9 film, ovviamente il terzo e il decimo non era ancora uscito, essendo uscito oggi, e sostanzialmente recuperando i film ho ritrovato in Fast and Furious ciò di cui avevo sempre sentito parlare nei riguardi della saga, ovvero una cagatona che non si prende sul serio nella maggior parte dei casi, poi alcuni film, soprattutto i primi, i primi si prendono molto sul serio nonostante diversi problemi, ma ancora oggi alcune scene, Vin Diesel, diciamo così, si prende tanto sul serio in un contesto che non dovrebbe essere così serioso, molti film non mi sono piaciuti, altri mi sono piaciuti, alcune scene sono riuscite a salvare in qualche modo i film, come per esempio il settimo, l'ultima scena mi fa emozionare e il film non è niente di che, però tutto sommato reputo Fast and Furious una saga giostra, una saga è un termine che viene usato spesso con i cinecomic, soprattutto quelli Marvel, ma lo riscontro più in Fast and Furious, una giostra, una giostra per lo più malfunzionante, ne parleremo più in avanti, ma comunque una giostra per divertirsi, nonostante tanti e tanti problemi, ripeto. Questo decimo film che teoricamente dovrebbe essere l'ultimo, poi sì, sarà diviso in tre parti, dovevano essere due all'inizio, poi si sono accorti che possibilmente si faranno anche più soldi con anche una seconda divisione, quindi arriverà anche Fast 12, non credo si chiameranno tutti Fast X parte 1, parte 2, parte 3, penso avranno diversi titoli nonostante la storia sia unica, e in generale questa prima parte di questa enorme conclusione non mi ha fatto impazzire, però ho un hype assurdo per Fast 11. Come ho già detto, per la maggior parte questo Fast X è una giostra malfunzionante più che una giostra divertente, del tipo che ti trovi sul carosello e tra un gigetto 50 anni fisichetto e Waka Waka di Shakira, i cavallini iniziano a cadere con tutte le persone sopra, ecco. Molte scelte in questo film mi hanno interrotto il divertimento che stavo provando fino a quel momento. È una cosa continua, quindi effettivamente più che una giostra è una montagna russa, perché va totalmente a caso, il ritmo è discontinuo, ovviamente parlo del ritmo di divertimento, comunque di intrattenimento. Piccola parentesi tecnica, per quanto riguarda la regia non ci sono chissà che grandissimi problemi, nonostante il regista sia diverso, se non sbaglio non è Justin Lin, ma lui ha abbandonato la barca dopo, in teoria si pensa a qualche litigio con Vin Diesel. Non è che si noti tanto questa differenza, perché sia Justin Lin che è questo che non conosco, comunque il nuovo regista, sono dei mestieranti, con alcuni errori, perché anche in Fast X c'è qualche errore, fortunatamente non scavalcamenti di campo, che reputo l'errore più stupido che si possa fare, quindi di conseguenza anche il peggiore. Poi a livello di colonna sonora, siamo sempre su Fast X, quelle originali sono sempre quelle, c'è stato un riadattamento di See You Again in un certo momento all'inizio del film, fa sempre piacere risentire quella canzone, poi ci sono le canzoni non originali, alcune scelte che mi hanno fatto sorridere, perché vi ricordo che il film ha una scena, più di una scena ambientata in Italia, e vi dico solo questo, poi magari ne parliamo nella parte spoiler, perché c'è chi potrebbe reputare lo svelamento delle canzoni usate spoiler. A livello CGI, siamo ad alti livelli in realtà, molte scene, tantissime scene sono molto credibili, non nel lato fisico, perché Fast and Furious non è nulla, Fast and Furious e fisica non hanno nulla a che vedere, però per lo più la CGI è credibile, ci sono pochissime scene che sembrano finte. La sceneggiatura è sicuramente uno dei problemi maggiori, con dialoghi che mi hanno fatto ridere e non erano pensati per essere divertenti, ma anche diverse scelte, diversi colpi di scena, che hanno rovinato tante cose, soprattutto per il modo in cui presentati questi colpi di scena sul finale, credo che avrebbero potuto tranquillamente fare di meglio. Per quanto riguarda i personaggi, ovviamente non parlerò del lato interpretativo, perché ho visto il film doppiato, magari posso parlare solo delle espressioni di Vin Diesel, che sono per lo più assenti, come nella maggior parte dei casi, qui sembra molto di più aldobaglio. Poi Momoa, che è il villain di questo film, ragazzi, è un villain tremendo, davvero. Forse il difetto maggiore di Fast X, e quindi di tutti gli altri film, perché penso che sarà sempre lui il villain. Questo Dante, il film di uno dei villain passati della saga, del quarto film se non sbaglio. Ma vi dico subito perché è un villain tremendo, perché è ridicolo, si rende ridicolo. Momoa generalmente ha la faccia da villain, Momoa è nato per essere villain. Ma se tu me lo rendi come hai reso questo Dante, ovvero un personaggio davvero cattivo, perché fa delle cattiverie molto esagerate, e poi subito dopo gli fai fare la battutina o la pernacchia, perché sì, ne fa più di una di pernacchia nel film. Ecco, questo me lo rende molto ridicolo, e non nel senso buono, non è un personaggio che hanno decostruito e hanno messo in contrasto la sua cattiveria con... almeno non l'hanno messa bene in contrasto la sua cattiveria con questa infantilità. Il figlio di Dom qui ha semplicemente il ruolo di traguardo, di obiettivo, sia per Toretto che per Dante. Letty è stata un po' messa da parte, nonostante abbia delle scene interessanti con Cypher a un certo punto, però hanno diviso ovviamente il gruppo, perché lavorare di film di gruppo è un po' difficile, lasciando il gruppo tutto intero, quindi ci sono diverse divisioni. Il personaggio di John Cena, Jacob, è tra i personaggi che più sono stati trattati male in questo film, assieme al Dante di Momoa. Statham, show, compare, non è uno spoiler, c'è anche nella Locandina, ma compare per poco, credo sarà più importante per gli altri film. E poi ci sono personaggi nuovi che sono stati introdotti, ovvero Tess, interpretata da Brie Larson. Non dirò chi è questo personaggio, perché non credo l'abbiano rivelato. Ne parliamo poi nella parte spoiler. Abbiamo poi Ames, se non sbaglio, si chiama il personaggio dell'attore che interpreta Oak in Titans. Lui, sì, ci potrebbe stare come personaggio, però alcune cose non me l'hanno fatto apprezzare tantissimo. E infine abbiamo Isabel, che è interpretata da Daniela Melchiorre, ovvero la Ratcatcher di The Suicide Squad. Ratcatcher 2, perché il Ratcatcher era Takeaway Titi. Qui c'è stato un ricongiungimento tra Peacemaker e Ratcatcher. E anche Isabel, in realtà, sì, è lì, però... è lì, punto. Degli obiettivi anche loro, come il figlio di Toretto. Soprattutto perché i personaggi, il film, è pieno di retcon. Partendo dalla primissima, ovvero Dante, il figlio del cattivone del quarto film, è una retcon. Ma anche i nuovi personaggi sono collegati a delle retcon di cui, appunto, essendo retcon, non si è mai parlato negli altri film. Comunque, generalmente, devo ammettere che questo Fast X parte 1, a questo punto, ha un po' quel sapore di Infinity War. Non solo per il finale, ma anche per il modo di presentare le scene. Ci sono tantissimi cambi di location in pochissimo tempo, ci sono tantissime location, due delle quali in Italia. O meglio, due ambientate in Italia, una è sicuramente girata in Italia e l'altra probabilmente no. Però ripeto che comunque mi ha lasciato quel sapore di Infinity War, di prima parte di una grande conclusione. Entrando un po' nel dettaglio, sempre senza spoiler, il film inizia con una scena ambientata nel passato, che serve un po' da riassuntino per questa introduzione di questa retcon, ovvero Dante. Quindi vediamo letteralmente la stessa scena del quarto film, la scena della cassaforte, in cui si vede anche Paul Walker. Quindi c'è Paul Walker in qualche modo in questo film. Però è una scena che dura davvero troppo, essendo già una scena vista. Sì che ci sono diversi frame, diverse scene aggiuntive, ovviamente per rendere il tutto più omogeneo alla retcon. Quindi per far dire allo spettatore, wow, c'era Momoa in quella macchina! Ok, capito. Ma la cosa che ho apprezzato è che comunque vedendo questa scena nel quarto film, ho notato la differenza sia nella direzione che proprio nel modo di presentare una scena di inseguimento o comunque una scena automobilistica in questo Fast X. E la differenza è tanta, non solo a livello qualitativo di immagine, di definizione, ma anche proprio registicamente. Infatti anche la scena ambientata a Roma è una scena di inseguimento, una scena automobilistica, per lo più automobilistica. Poi succedono tante cose alla Fast and Furious, sempre con le auto, però... ok, è Fast and Furious. E la scena a Roma è lunga ma divertente. Successivamente comunque, dopo tantissimi cambi di location, come ho detto, ci viene spiegata la post-credit del nono film, quindi la presenza di Statham e Anne alla porta. Il riscontro è diverso da quello che potevamo aspettarci. Io, per quanto riguarda il personaggio di Anne, sì, un po' fastidio me l'ha data il fatto che non sia morto realmente in Fast X. In Fast and Furious, generalmente, la morte non è davvero una fine, sia per Letty che per Anne, appunto, e per altri personaggi, ma ne parliamo magari nella parte spoiler. In ogni caso, arrivati ad un certo punto, soprattutto dopo l'intervallo, ho iniziato a chiedermi quando sarebbe finito il film. Stava durando davvero troppo e non avevo tenuto conto della durata, dell'impressione della durata, e aspettandomi comunque un finale aperto, appunto, essendo la prima parte di una conclusione, si sono andati a creare diversi falsi finali. Quindi più volte guardando una scena ho detto, oh, finalmente compare directed by Gianfranco Masazza. E invece no, il film continuava con, solitamente, un cambio di location, un altro cambio di location. Nonostante non vedessi l'ora che finisse il film, attendevo il finale proprio per vedere come sarebbe finito, perché non sapevo nulla veramente, ed ero curioso. La curiosità c'è sempre per Fast and Furious, e nonostante, appunto, ripeto, anche questo Creed, questo Fast X, non mi abbia fatto impazzire così tanto, io Fast X lo attendo come poche cose. Davvero non vedo l'ora di vedere la continuazione, mi dispiace il fatto che, appunto, sia stato diviso in tre parti, quindi si dovranno aspettare altri anni, oltre al, possibilmente, 2025. Andrà a pari passo con Avatar, a questo passo penso che finiremo nel 2027 con Fast and Furious, rendendola probabilmente una delle saghe più longeve al cinema, e non era nata assolutamente per essere così. Doveva essere un film unico, poi è diventato una trilogia con storie differenti, e ora abbiamo questa cosa. Dopo averlo atteso così tanto, finalmente il finale è arrivato, a un certo punto, doveva pur finire prima o poi, è un finale aperto, come si poteva immaginare, sì, ci può stare, alcune cose sono assolutamente un no, ma ripeto che, appunto, per Fast XI io l'interesse lo sento. C'è una scena post-credit, Vin Diesel l'ha sostanzialmente spoilerata alla premiere di Roma, ci può anche stare la solita post-credit alla Fast and Furious, con i ritorni. A quanto so, questa post-credit però non doveva essere presente, o almeno non doveva essere così, doveva esserci un ritorno, ma non questo ritorno, ho l'impressione che abbiano preso la post-credit che c'era prima, e l'abbiano inserita nel film, e abbiano poi girato quest'altra, perché secondo rumor da fonti certe, appunto, non era prevista questo tipo di post-credit. Ma ragazzi, se ancora non avete visto il film, vi invito a lasciare questo video, perché gli spoiler inizieranno fra poco, io vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling, codice ilpensiero4 per il paio di calze gratis a scelta. E niente, se non avete visto il film, vi saluto, perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Come primissima cosa voglio parlare degli artisti, artisti per, almeno per uno, che vengono usati nelle scene in Italia e sono Imaneskin nella scena a Napoli, non pensavo ci potesse essere una scena a Napoli, infatti non credo sia stata girata a Napoli, e poi è stata usata Mischeta a Roma. Nel film ci sono diversi cameo, oltre al cameo immancabile della Corona, ovviamente lo sponsor Corona presente da tantissimi anni in Fast and Furious, ma ci sono anche diversi cameo, 2 che non mi aspettavo, almeno di quelli che ho notato, poi ce ne saranno altri. Io ne ho notati 3, di cameo fisici, di persone. Uno l'aveva già spoilerato Vin Diesel a Roma, in pratica ha detto tutto il film a Roma, ovvero la figlia di Paul Walker, che ha un cameo inutile, in realtà aiuta il personaggio di John Cena, Jacob, con il suo piano, è un hostess, non è chissà che grande personaggio, appunto è un cameo. E poi ci sono altri due cameo che non mi sarei aspettato perché non ne avevo sentito parlare, uno di Pete Davidson, ovvero uno dei comici del Saturday Night Live, che tra l'altro era anche in The Suicide Squad, quindi c'è un altro ricongiungimento perché lì faceva Blackguard, morendo all'inizio, però comunque faceva Blackguard. E poi c'è il cameo così di striscio, di due secondi, di uno dei due 21 Pilot, il batterista se non sbaglio. Continuando con i personaggi, per tutta la durata non sono riusciti, almeno per quanto mi riguarda, a farmi affezionare al personaggio di Tess o di Isabel, nonostante la prima sia la figlia di Mr. Nessuno, di Kurt Russell, che è scomparso, quindi non comparirà più nel film, è scomparso, non si dice che sia morto, non penso sia morto, ma è scomparso. E poi abbiamo appunto Isabel, che è la figlia di, in questo momento mi sfugge il nome, comunque della vera madre del figlio di Toretto. Soprattutto per questi due personaggi non ho avuto chissà che grande avvicinamento, perché entrambe vengono sparate, una sulla spalla, una proprio sfiorata sulla scapola, e per entrambe in realtà non mi fregava poi chissà quanto. Isabel si è trovata nei guai già all'inizio con la gara automobilistica, perché c'è una gara, alla vecchia Fast and Furious, stava per morire anche lì con la bomba a causa di Dante, e invece è morto solo l'altro, che se non sbaglio è già comparso in Fast and Furious. In questo momento non ricordo se fosse presente in altri film. A proposito di morti, nel film ce ne sono diverse, anche tra i personaggi principali, perché il piano originale di Dante è anche interessante, questo dovevo dirlo nella parte no spoiler, è interessante. Il piano di Dante mi piace perché è stato consigliato, sì, da suo padre. Lui non deve uccidere, almeno per ora, Toretto, ma deve farlo soffrire, perché lui ha avuto sofferenza, e poi tutta sta sofferenza non la vedo sia per Dante che per Toretto, nonostante tantissime morti vicine a Toretto, lui è sempre abbastanza tranquillo, per la maggior parte del film. E vi dico appunto, a proposito di morti, Jacob. Jacob, interpretato da John Cena, sembra davvero che sia andato dalla produzione dicendo, eh ragazzi, io devo fare Peacemaker 2, poi magari entro anche nel DCU a pianta stabile, quindi, raga, fate morire il mio personaggio. E quindi loro hanno deciso di farlo sacrificare in un modo terribile, veramente la sua scena fa cagare. Fratello mio, è arrivato il momento di uscire dalla mia ombra, guarda la catenina, boom, e sterza. E muore così. Dopo diverse scene realizzate anche bene, divertenti, con John Cena e il figlio di Toretto, muore così. A morire non è solo Jacob, ma muoiono sempre per mano di Dante, ovviamente, anche Roman, Megan e Tej. Poi, in realtà, per Jacob penso sia arrivata realmente la fine, ma per loro non vediamo veramente la loro morte, potrebbero essere scesi dall'aereo senza problemi, anche perché si accorgono del missile prima. E sappiamo, ripeto ancora una volta, che in Fast and Furious le morti non sono realmente una fine, visto il ritorno di Anne, primo tra tutti, Anne il ritorno principale tra le morti, oppure Letty nel quinto film. Ma anche qui ci sono due ritorni, uno dall'oltretomba, l'altro no, e sto parlando ovviamente di quello già spoilerato da Vin Diesel a Roma, ovvero il ritorno di The Rock come Hobbes, che quindi sarà presente anche negli altri due film. Anche perché Dante ce l'ha pure con lui, visto che è stato lui a premere il grilletto e ad uccidere il padre. Sembra però nella post-credit che abbia letteralmente cambiato obiettivo. Di Toretto non gliene frega più niente, sembra che abbia già ucciso Toretto. In teoria sì, secondo lui, magari nel finale, siccome il film finisce con lui che dice basta sofferenza, adesso ti tocca morire. Magari lui crede che Toretto sia già morto nella scena post-credit, però appunto sembra abbia cambiato tranquillamente obiettivo, bersaglio, ora ce l'ha con Hobbes, con Toretto ha già finito. Poi magari colpo di scena in Fast 11 si scopre che sia Vin Diesel che il figlio si sono già morti e il protagonista è Hobbes, così, a caso. Ovviamente sto scherzando, non sarà mai così. E l'altro ritorno, questo sì, dall'oltretomba, quindi ulteriore ritorno dalla morte, quello di Giselle, che era già stato anticipato da qualche rumor, ovvero Giselle è il personaggio interpretato da Gal Gadot, che si trova in Antartide. Non si sa perché si trovi lì, ma Cypher è... Cypher mi pare ogni volta il nome tipo di un panno per pulire tipo Swiffer. Comunque, Cypher e Letty la trovano in un sommergibile sotto il ghiaccio. Ripeto ancora una volta quindi che nonostante ci siano tantissimi problemi, nonostante ci siano tantissime cose che mi hanno fatto stracacare, come per esempio la morte di Jacob, poi sì c'è anche il colpo di scena di Ames, che in realtà era un collega, un aiutante di Dante, dopo aver aiutato per finta quindi Toretto, questo non me lo aspettavo. Però in quanto personaggi non è che ci sia chissà che grande costruzione. I colpi di scena hanno funzionato, ciò non vuol dire che siano belli, perché in questo momento potrei tranquillamente alzarmi, alzarmi, denudarmi totalmente, iniziare a ruttare. È un colpo di scena in un video del genere, ma sicuramente non è un buon spettacolo. Ecco, più o meno la stessa cosa con la morte di Jacob. E in Soldoni comunque è un film che non promuovo al 100%, gli darei un 5,5-6 se dovessi dare voti, non li do da tanto, però facciamolo con Fast X. Un 5,5, 5,5 tendente più al 6. Sicuramente non il mio Fast and Furious preferito, però attendo tanto l'11. Davvero non riesco a capire questa mia indole nel avere così tante delusioni da una saga, però nonostante questo continuare ad attendere gli altri film. Ma ragazzi, la recensione finisce qui. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi. Se volete fare spoiler mi raccomando, non rovinate il film a chi ancora non l'ha visto, quindi anticipate lo spoiler con una dicitura enorme spoiler. Io vi ricordo che nella descrizione ci sono i link importanti tra i miei social, Instagram, dove c'è la recensione Fusa di Fast X, quindi una mini recensione del film, con la mia faccia in ogni singolo personaggio della locandina. Roba inquietantissima, soprattutto nei personaggi femminili. E poi c'è il link di Letterboxd, dove pubblico altre recensioni di altri film, o comunque vi tengo aggiornati in qualche modo sui film che vedo, con anche magari qualche mio piccolo parere. E niente ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!